Si sono aperte questa mattina le porte del carcere di massima sicurezza di Sulmona per un 37enne di Corfinio che aveva picchiato la sua ex. Ad eseguire l'ordine di carcerazione messo dal tribunale di Sulmona sono stati carabinieri della locale Compagnia. L'uomo deve scontare la pena residua di due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Dal mese di ottobre 2020, per futili motivi, aveva aggredito la sua ex sbattendole la testa sul fornello del gas strappandole una ciocca di capelli. Inoltre, in seguito a una banale discussione, aveva afferrato la donna al collo provocando le lesioni dal momento che la vittima andò a sbattere contro la finestra dell'abitazione. Il tutto con gli aggravanti di aver commesso il fatto in presenza del figlio minore di aver posto in essere condotte di maltrattamenti nei confronti della donna in stato di gravidanza. In più, in precedenza, l'uomo aveva sfondato addirittura i portoni di casa con calci e spallate nonostante i divieti imposti dal tribunale. Non si poteva avvicinare alla sua ex. Nell'ordine di carcerazione è finito anche un terzo episodio, sempre riguardante i maltrattamenti nei confronti di un'altra donna. Per questo, la pena resira di due anni e due mesi di reclusione, trattandosi di reato o stativo, deve essere scontata dietro le sbarre. Il 37enne è difeso dall'avvocato Alessandro Margiotta.